Allora, un ultimo ringraziamento va a due ragazzi oramai molto presenti nel gruppo dei carbonari, a Vittorio e Lino Marigliano, in particolar modo a Lino Marigliano, proprietario del negozio Marigliano Motorsport, che quest'anno ha cominciato a vendere anche biciclette ed da il marchio Scott. Lo ringrazio perché ha portato 50 di questi lacci da bici per permetterci di tenerle legate nel momento in cui facevamo il vendisi. Qualcuno non ne capiva il funzionamento, adesso lo andiamo a vedere perché è semplicissimo. Eccolo qua, questo qui è il lucchetto, è molto leggero anche se sembra molto resistente. Allora, la prima cosa da sapere è che la chiave esce soltanto quando il lucchetto è chiuso. Questo chiaramente serve a voi per essere sicuri che non avete lasciato la bicicletta aperta. Allora, per tirare fuori il cavo basta mantenere la parte colorata, prendere il capo del cavo di ferro e tirarlo fuori. Ok? Ok. A questo punto infilate la chiave, aprite il lucchetto, infilate in uno delle quattro feritoie il capo, chiaramente facendolo passare attraverso il telaio, quello che potete, chiudete la chiave e chiaramente viene via. Quando è chiuso il dispositivo è bloccato. Ok? Rinfilate la chiave, aprite il dispositivo e chiaramente viene via. A questo punto, tornete la chiave, mantenete sempre la parte colorata, una semplice girata veloce, pronto per il prossimo utilizzo. Grazie Marigliano, siete stati unici.